E' lo strumento dell'ascesa. Gli spiriti di Getalsa, Biagio Filardi, Idein. Gli spiriti come me hanno paura di addentrarsi in quelle zone che sono il vostro subconscio. Il subconscio non è un'idea astratta. E' esattamente un luogo, un mondo, una dimensione, dove il passato, il presente e il futuro sono espressi sullo stesso asse. Fu Titraco a parlare così, poi accennò al corpo fisico. Il corpo amalo e conservalo bene, perché esso è lo strumento dell'ascesa. Gli organi hanno una magica virtù. Sono traduzioni e riduzioni carnali di antiche potenze della tua coscienza. Continuò Qualora tu volessi ritornare a riavere la tua ignificazione divina, dovrai misurarti con quelle energie che sono diventate, nella loro apparenza onirica, gli organi del tuo corpo. Per esempio, lo stomaco ha l'energia dei sentimenti, per cui l'ente cosmico dei sentimenti vive nel tuo stomaco. Ecco, già previdi di meditare su queste informazioni per un tempo indefinito, ma c'era dell'altro. Le forze che gestiscono sovrastano la vostra vita, insinuandosi come personalità dentro l'individualità. Sono le stesse che vi hanno composto e vi compongono di vita in vita, impregnandovi di una personalità che è la contingenza del corpo. Forse gestiscono la nostra vita e ci hanno composti, e poi la personalità, l'individualità, se ne intuiva la differenza, ma cosa davvero si intendeva con quei due termini? La vita è soltanto una dimensione, non è tutto. E quando essa finisce, non è la fine, è la fine di niente. Ma voi avete scordato di essere dei. Così, di volta in volta rinascete, ogni volta dimenticando di essere già stati.